È veramente difficile lavorare in queste condizioni perché non abbiamo né tempi né possibilità di risposte certe né la possibilità più semplice di accedere alla cancelleria per visionare fascicoli o per depositare atti perché è realmente impossibile in alcune situazioni. Quindi molte situazioni sono bloccate, i cittadini o i nostri assistiti aspettano risposte, sia chi ha pendenze penali, sia chi ha cause civili, chi deve introdurre nuovi ricorsi o nuove azioni. Quindi è un momento che necessita, secondo me, di una velocizzazione della ripresa. Accelerare il processo di normalizzazione dell'attività giudiziaria in tribunale, questa la richiesta forte e chiara dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo. Noi abbiamo come Consiglio dell'Ordine deliberato proprio un ordine del giorno col quale abbiamo invitato un ripristino veloce per cercare di rimediare ad una situazione estremamente difficile, sia per gli Avvocati che per i nostri assistiti. E comunque per tutti i cittadini perché questo scartamento ridotto della giustizia sta creando grossi problemi. Ovviamente nel massimo rispetto della tutela di tutte le emergenze sanitarie e di tutte le prevenzioni. Dopo di ciò c'è stato un incontro col Presidente del Tribunale venerdì, quindi già ci sono delle aperture, dei tentativi di organizzare meglio il lavoro. Non c'è da dare colpa a nessuno, però bisogna cercare di collaborare tutti. Nel frattempo è uscita anche una circolare del Ministero di Grazia e Giustizia che invitava appunto alla ripresa graduale, ma abbastanza veloce, di tutta l'attività sia amministrativa che giudiziaria. Come Ordine stiamo molto attenti che ciò avvenga, cercando tutti i giorni di controllare, di stimolare, di collaborare per quello che possiamo fare, che ciò avvenga velocemente. In seguito all'emergenza Covid, infatti, l'attività giudiziaria, fatto salvo per procedimenti di particolare impellenza, è stata ridotta ai minimi termini, il che di fatto ha portato ad una paralisi dei processi. Si aspetta i primi di luglio per vedere situazioni diverse, orari delle cancellerie recuperati con maggiore disponibilità. La circolare propone anche turni pomeridiani, quindi ora vedremo anche con il Presidente del Tribunale cosa potrà e cosa vorrà fare. Noi speriamo anche in una ripresa veloce delle udienze, sia civili che penali, anche queste nel massimo rispetto delle prevenzioni sanitarie, però così è veramente difficile giustificare un blocco per tutta l'attività giudiziaria e amministrativa.